Benvenuti, io sono il Cinemazzo, e qui si parla solo di cinema, a cazzo! E' uscito il teaser trailer di Agatha All Along. It's been Agatha All Along. Sì, esatto, una serie di Disney Plus su Agatha Arkness, la cattiva di WandaVision. La prima, WandaVision, che è stata la prima serie Marvel Studios ad approdare su Disney Plus. E poi sappiamo tutti com'è finita con le serie TV della Marvel, eh? Vero, Moon Knight? Eh? Vero? Che sei una merda? Adesso, ad Halloween di quest'anno, uscirà la serie spin-off di WandaVision. Siccome già WandaVision era uno spin-off del Marvel Cinematic Universe, incitato su Wanda, adesso abbiamo anche uno spin-off dello spin-off su Agatha Arkness, che nei fumetti Agatha è una potente maga che è anche la babysitter di Franklin Richards, il bambino di Susan Storm e Reed Richards, dei Fantastici Quattro, di Mr. Fantastic, che è la donna invisibile. Invece poi abbiamo avuto Agatha Arkness nella serie Marvel Studios, che fa da babysitter i figli di Wanda, e poi abbiamo scoperto sul finale di WandaVision che è cattiva, anche se per me non è stata tutta questa cattivona, cioè proprio snì. Però la Katherine Hahn, l'attrice che interpreta Agatha, è stata davvero brava e si vede dalle interviste che ci tiene davvero tanto a questo ruolo. Magari, essendo se non sbaglio anche produttrice dello spin-off Agatha Ola Long, magari può essere uscito qualcosa di carino, forse, anche se quest'ultima serie fa parte del sistema di amministrazione della vecchia Marvel, dei vecchi Marvel Studios, dove non si capiva un cazzo di quello che stava succedendo, tra serie, film, invece adesso i Marvel Studios hanno capito che per fare le serie c'è bisogno di uno showrunner. Quindi Agatha Ola Long è una delle ultime serie Marvel Studios con un'amministrazione, con una dirigenza passata, vecchia, buttata lì. Però, magari è carino, magari è stata rimaneggiata, non lo so, e poi è stato anche molto divertente che nel corso di tutti i mesi di riprese o che doveva uscire il trailer o altro, continuavano a cambiare il nome di Agatha, anche se a nessuno fregava nulla di questa serie. Comunque era interessante che la chiamavano prima Agatha Coven of Chaos, Agatha House of Arkness, tante cose a caso così. Invece poi, qualche mese fa, abbiamo avuto il titolo ufficiale che è Agatha All Along, che va a riprendere la canzoncina in Wandavision. e adesso andiamo a fare una trailer reaction, un bel trailerazzo di questo teaser trailer di Agatha Ola Long. Sì! E via. Qua sembra un po' True Detective. Un altro bellissimo giorno. Surpreta di vedere tu qui, Detective. Jane Doe. La scena qui, qui, dal l'acqua. Cosa? Trauma di forza. Cazzo. C'ha le dita nere come Wanda. Come Wanda in Doctor Strange 2. Ecco la Wanda Maximoff. Torna, torna. Is this really how you see yourself? Uh, Aubrey Plaza. That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. I miss the glory days. She took everything in the machine, come colonna sonora. But I can beat that witch again. Well, the gang's all here. Let's hit the road. I'm going to walk the witch's road. The road is a death wish. Join me. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches, as it happens. Sweetheart? You okay? Oh, my God. Wow, what are you doing? Where are you going? Oh, my God. Oh, my God. Cavolo. Cavolo. Ah, è un teaser trailer che mi ha sorpreso. Ma ha messo il sorriso in faccia. Una bella chicchetta di trailer. Poi, non so, speriamo che la serie in sé non sia una cagata. Però, devo dire che questo teaser trailer, già con l'etichetta Marvel Television, che è la sezione Marvel Studios per le serie TV, che andranno su Disney+. Devo dire che è un trailer ben fatto, ben costruito e pieno di tante sorprese. Mi piace, cioè, una cosa bella che magari mi è piaciuta molto in Vantavision, del personaggio di Agatha Harkness, è forse che si inizia ad esplorare la natura soprannaturale, magica, della Marvel. Non magica, non la magia spaziale come abbiamo visto in Thor con l'occhio o altro, ma una magia più terrena, no? La classica magia delle storie di streghe, infatti Agatha Harkness è una strega. E so contento, mi ricorda molto anche Werewolf by Night, il Marvel special diretto da Michael Giacchino, che anche lì ci butta totalmente dentro un mondo Marvel sotto sopra, no? Se sopra ci sono gli eroi, sotto ci sono i mostri e la magia oscura, bianca, quel che sia. E questa cosa l'ho vista molto anche in questo trailer e sono contento anche che si vedano anche dei demoni, degli esorcismi, ricordano molto, non lo so, la casa di Sam Raimi, il miscuglio tra l'effetto pratico e quello visivo. E mi ha sorpreso, devo dire che mi ha sorpreso, non avevo tanto interesse, però comunque è sempre una cosa Marvel e forse, no, forse sbaglio a dire che non avevo tanto interesse. Avevo un pizzico interesse proprio che magari è particolare, che si dedica una serie tv a un personaggio che magari nella serie di WandaVision non era uscito talmente bene, cioè la sua storia non si era conclusa così bene. Quindi sono contento di rivedere la Katherine Hahn in un progetto Marvel Studios e spero che anche Agatha Harkness, ora vedendo solamente il trailer, continui ad essere partecipe nel mondo soprannaturale della Marvel. È un teaser trailer che dice tutto e non dice nulla, no? Come ogni teaser trailer, però ci fa capire che inizia con queste citazioni alla True Detective, come anche WandaVision citava un sacco di serie tv, anche qua, però, non lo so, rimane attaccato a riprendere, all'ispirarsi da tutte le serie tv di ogni epoca. E poi vediamo anche i personaggi Obri Plaza, che non so se è la cattivo o meno, però è anche lei una strega che libera Agatha Harkness dall'incantesimo che Wanda le ha fatto a fine WandaVision, no? Che la mantiene intrappolata in Westview, però è molto interessante, è molto interessante ed è interessante anche questo corpo, no? Che ha le dita nere e sappiamo da Doctor Strange, Multiverse of Madness, che WandaVision, Wanda, utilizza il Darkhold e viene corrotta da Darkhold. E più utilizzi il Darkhold, più le dita diventano oscure, perché sei corrotto, quindi è così. E cos'è? Tutte le Wanda del multiverso sono morte? E solo, magari un inganno anche, tornerà Wanda, farà una comparsa in Agatha Hulalong? Non lo so, toccherà aspettare questo Halloween, Halloween 2024. E niente, questo era il trailerazzo di Agatha Hulalong. Io sono il Cinemazzo e qui si parla solo di cinema a cazzo!